ariete le vostre attività vanno a gonfie vele potete permettervi perciò di usare un po del vostro tempo e delle vostre energie per sostenere il progetto di qualcun altro toro vi lancerete presto in un nuovo progetto che vi conviene affrontare nel migliore dei modi la vostra preparazione dovrà essere impeccabile gemelli avete la sensazione di non andare né avanti né indietro ma alla fine della giornata vi accorgerete con sorpresa di essere persino in anticipo sulla tabella di marcia cancro sarà importante scegliere il giusto mezzo di trasporto la velocità non sarà l'unico fattore da tenere in considerazione leone potreste godervi di più la vita se riusciste a guardare le cose da una prospettiva differente e forse se vi lasciaste coinvolgere di più vergine potreste tirar fuori gli aspetti più originali della vostra personalità ma attenzione a non allontanarvi troppo da ciò che vi rende le persone che siete bilancia ciò che continuate a dimenticare potrebbe essere costantemente in primo piano in questo modo forse non avrete bisogno di pro memoria per ricordarvelo scorpione chi cerca trova se non oggi di certo domani o dopodomani dovrete però iniziare subito le vostre ricerche sagittario alla vostra giornata già piuttosto intensa potrebbero aggiungersi un paio di impegni dovrete essere in grado di agire su molti fronti contemporaneamente capricorno le notizie che riceverete da una persona lontana da casa vi indurranno a chiedervi se avete preso le decisioni giuste avete bisogno di altri elementi acquario dovrete usare tutto il tempo a vostra disposizione per tentare di portare a termine un'impresa attenti però a non sfinirvi pesci la situazione vi appare confusa ma potreste scoprire alcuni elementi nuovi che vi consentiranno di vedere le cose nella prospettiva giusta